Un ferragosto di sole e temperature alte non solo in provincia di Arezzo ma in tutta la regione toscana. Chi rimarrà in città, chi deciderà di concedersi una piccola escursione nei paraggi o una città al mare verso le coste tirreniche può star tranquillo. I piani di relax non dovrebbero essere guastati dal maltempo. Le temperature fino a ferragosto dovrebbero far segnare massime tra i 26-31 gradi. Le minime non scenderanno mai sotto i 13 gradi. Il quadro delle previsioni del Consorzio Lamma in tutta la Toscana e nel dettaglio anche su Arezzo prevedono per le giornate di domenica e lunedì un cielo sereno poco nuvoloso con qualche nuvola pomerigliana sui rilievi. Venti deboli nelle zone interne e un regime di brezza lungo la costa. I mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature un ulteriore aumento nelle zone interne, in particolare le massime con punte fino ai 33-34 gradi. Nello specifico per la giornata di ferragosto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi e anche in questo caso le temperature stazionarie con punte fino ai 33-34 gradi sulle zone interne.